i figli di nessuno credo proprio che tu sia pazza mia cara a voler andare in giro per la campagna con un tempo simile mi pare che da due mesi in qua ti stanno venendo delle strane idee senza tener conto della mia volontà mi porti al mare quando mai da 45 anni che ci siamo sposati hai avuto capricci del genere scegli di propotenza fechamp una cittadina malinconica e subito sei preso da una gran frenesia di movimento tu che non ti muovevi mai e vuoi andare a fare una passezzata in campagna nel giorno più caldo dell'anno dia da preval di accompagnarti lui che fa tutto quello che vuoi tu quanto a me torno in albergo a fare un riposino a questo punto la signora cadur si rivolse al suo vecchio amico venite con me da preval lui si inginocchiò con una galanteria ad altri tempi rispose dove andrete voi io verrò allora andate a prendervi un'insolazione dichiarò il signor de cadur ed entrò all'hotel de bain per godersi un pisolino d'un paio d'ore appena furono soli la vecchia signora e il suo anziano compagno si misero in cammino lei disse a bassa voce stringendogli la mano finalmente finalmente siete pazza mormorò l'amico vi ripeto che siete pazza pensate al rischio che correte se quel uomo lei trasalì vi prego henry non dite quel uomo quando parlate di lui e va bene seguito a lui bruscamente se nostro figlio sospetta qualche cosa se ci sospetta vi avrà e ci avrà in mano sua l'avete vissuto 40 anni senza vederlo che cosa va preso oggi avevano percorso la lunga strada che porta dalla spiaggia alla cittadina voltarono a destra per risalire alla costa di tretà la strada candida si snodava sotto una pioggia infuocata di sole in quel candore torrido andavano avanti lentamente a piccoli passi lei aveva preso un amico sotto braccio e guardava davanti a sé con occhi fissi carichi di pensieri disse così voi non l'avete più rivisto no mai è possibile cara amica non ricominciamo quella eterna discussione a una moglie e figli come voi avete un marito l'una e l'altra abbiamo dunque da temere dell'opinione della gente lei non rispose pensava alla giovinezza lontana alle cose passate così tristi l'avevano sposata come si sposano le fanciulle non conosceva per nulla il fidanzato un diplomatico aveva vissuto con lui più tardi la vita di tutte le donne di questo mondo ma ecco che un giovane il signor da prefà come lui sposato l'amò con una passione profonda e durante una lunga assenza del signor de cadour partito per le india in missione politica lei cedette come avrebbe potuto resistere come avere la forza il coraggio di non cedere se anche lei lo amava no davvero sarebbe stato troppo difficile come cattiva e traditrice la vita come parare certi colpi del destino come sottrarsi alla sorte fatale quando si è donne sole abbandonate senza amore senza figli è possibile sempre sottrarsi a una passione che vi si aderge contro sarebbe come volersi sottrarre alla luce del sole per vivere fino alla morte nel buio come rammentava ora ogni particolare i baci di lui i sorrisi le sue soste sulla porta per vederla rientrare in casa che giorni felici quelli i suoi soli bei giorni così presto passati poi si avvide che era incinta che angosce oh quel viaggio nel mezzogiorno quel lungo viaggio quelle sofferenze quei terrori incessanti quella vita nascosta nella villetta solitaria sulle rive del mediterraneo nascosta in fondo a un giardino dal quale non osava uscire come li ricordava i lunghi giorni trascorsi distesa sotto una pianta d'arancio con gli occhi alzati verso i frutti sanguigni rotondi in mezzo al fogliame verde come avrebbe voluto uscire andare fino al mare il cui fresco soffio raggiungeva dall'alto del muro il mare di cui udiva il rumore delle breve ondate sulla spiaggia e di cui sognava la distesa azzurra lucente di sole con vele bianche e una montagna all'orizzonte ma non osava avarcare l'uscita se fosse stata riconosciuta col ventre deformato col ventre greve che attestava la sua colpa i giorni d'attesa gli ultimi giorni tormentosi le apprezzioni e i dolori minacciosi poi la notte spaventosa quante miserie aveva subite che notte quella non faceva che gemere e gridare vedeva ancora il viso pallido dell'amante che ogni momento le baciava la mano il viso glabro del medico la cuffia bianca dell'infermiera e che tuffo aveva sentito nel cuore nell'udire quell'esile gemito di piccino quel miagolio quel primo sforzo di voce umana e giorno dopo fu l'unico giorno della sua vita in cui aveva visto e baciato suo figlio perché non aveva mai più neppure potuto intravedere ed allora che interminabile vuota esistenza col sempre fluttuante pensiero del figlio che lei aveva di continuo presente nella forma di quel lesserino partorito da lei l'aveva preso portato via nascosto sapeva soltanto che era stato allevato da contadini normanni che anche egli era diventato un contadino e che sarà sposato sposato bene ed era stato ben provvisto di denaro dal padre del quale ignorava il nome quante volte in 40 anni lei aveva voluto partire per andare a trovarlo per abbracciarlo non immaginava che fosse cresciuto pensava sempre a quella larva umana che aveva tenuto un giorno fra le brazza e stretto contro il petto palpitante quante volte aveva detto al suo amico non rago più voglio vederlo voglio partire sempre lui era riuscito a trattenerla lei non riusciva a contenersi a padroneggiarsi il marito avrebbe indovinato l'avrebbe spiata sarebbe stata allora la fine come chiedeva lei non so nemmeno io l'ho più visto è mai possibile avere un figlio e non conoscerlo aver paura di lui averlo ripudiato come una vergogna orribile camminavano per la strada assai lunga spossati dall'ardore del sole sempre salendo l'interminabile pendio la donna riprese non si direbbe un castigo non ho mai avuto altri figli no non posso più resistere al desiderio di vederlo che mi ossessiona da 40 anni non potete capire queste cose voi uomini pensate che sono vicinissima a morire e non lo avrei più riveduto mai più è possibile per tutta la mia vita ho pensato a lui che orribile esistenza ho vissuto per questo motivo nemmeno una volta non una volta capita senza che il mio primo pensiero non sia stato per lui in simili casi non si deve aver paura della gente avrei dovuto abbandonare ogni cosa e seguirlo allevarlo amarlo certo sarei stata più felice non ho osato sono stata vile quanto ho sofferto queste povere creature abbandonate come debbono odiare le loro madri intanto si fermò soffocata dai singhiozzi tutta la valle era deserta e muta sotto la luce abbagliante del giorno soltanto le cavallette facevano dire il loro fruscio secco e continuo nell'erba gialla e rara dei due pendii che davano sulla strada sedetevi un po disse l'uomo lei si lasciò condurre fino al ciglio del fosso e vi si sedette col viso fra le mani i suoi capelli bianchi acconciati in boccoli ai due lati del viso si scioglievano lei piangeva stracciata da un dolore profondo l'amico restava in piedi di fronte a lei inquieto senza sapere che dirle mormorò su coraggio la signora rimase in piedi ne avrò disse e asciugandosi gli occhi riprese a camminare con un passo affannato di vecchia la strada si inoltrava un po più lontano sotto un gruppo di alberi che nascondevano alcune case percepivano ora i colpi vibranti e ritmati di una mazza di fabbro sopra un incudine e di lì a poco videro a destra una specie di carro fermo davanti a una specie di casa bassa e sotto una rimessa due uomini che ferravano un cavallo la preval si avvicinò il podere di pier benedict chiese uno degli uomini rispose prendete la strada di sinistra proprio di faccia al caffeino e poi continuate dritto è la terza dopo quella di porre c'è un piccolo abete accanto al cancello non c'è da sbagliare volta erano a sinistra ora la donna camminava pian piano con le gambe che non la reggevano e il cuore che batteva con una tale violenza da schiantarla ad ogni passo mormorava come per una preghiera mio dio mio dio e una commozione terribile le serrava la gola la faceva vacillare sulle gambe come se l'avessero reciso le caviglie da preval nervoso e un po pallido le disse all'improvviso se non riuscite a padroneggiarvi vi tradirete subito cercate dunque di dominarvi seguivano una delle stradine di campagna incassata fra i cortili delle masserie sepolte sotto una duplice fila di faggi allineati lungo i fossati ed un tratto si trovarono di fronte a un cancello protetto da un giovane abete e qui disse da preval la donna si arrestò di colpo e guardò il cortile piantato a meli era vasto si allargava fino alla casetta coperta di stoppia di fronte la stalla la rimessa il pollaio sotto un tetto di ardesia i carri le carrette il calesse quattro vitelli passevano l'erba verdissima sotto gli alberi le galline nere erravano per tutti gli angoli del recinto nessun rumore la porta della casa era aperta ma non si vedeva nessuno entrarono immediatamente un cane nero uscì da un barile rovesciato sotto un gran pero e cominciò ad abbaiare furiosamente allineati contro il muro della casa quattro alveari sopra delle tavole di legno mostravano a chi entrava le loro cupole di paglia davanti all'uscio il signor da preval gridò c'è nessuno comparvo una bambina una ragazzina di circa dieci anni vestita con una camicia e una gonnella di lana con le gambe nude e sporche l'aria timida e sorgnona rimaneva ritta nel vano della porta come per impedirne l'ingresso che volete disse tuo padre è in casa no dov'è non lo so e tua madre è dalle vacche tornerà presto non lo so la vecchia signora improvvisamente come se avesse temuto che la trascinassero via a forza disse precipitosamente non me ne andrò non me ne andrò senza averlo visto aspetteremo cara voltandosi videro venire verso la casa una contadina che portava due secchi di zinco pesanti all'apparenza e che lanciavano a sotto il sole bianchi bagliori accecanti zoppicava con la gamba destra e aveva il petto infagottato in un giacchetto a maglia scuro e sbiadito lavato dalle piogge scolorito dal sole pareva una povera serva misera e sudicia ecco mamma disse la bambina la donna quando fu vicina alla casa lanciò ai due strani un'occhiata cattiva e diffidente ed entrò in casa come se non li avesse nemmeno visti pareva vecchia aveva il volto incamato giallastro duro il viso legnoso dei contadini il signor da prevalla chiamò signora siamo entrati per chiedervi se potete venderci due bicchieri di latte dopo aver posato i suoi secchi la donna tornò ad affacciarsi alla porta e brontolò non vendo latte è che abbiamo molta sete questa signora è anziana e molto stanca non c'è modo di avere qualcosa da bere la contadina le osservava inquieta e sospettosa alla fine si decise al momento che siete qui ve lo darò lo stesso disse le scomparve in casa uscì la bambina con due sedie che mise sotto un melo poi venne la madre con due ciotole di latte schiumoso che mise nelle mani dei visitatori e restò in piedi davanti a loro come per solvegliarli e indovinare le loro intenzioni siete di fechamp chiese sì rispose da preval siamo a fechamp per l'estate poi dopo una pausa aggiunse potreste venderci dei polli tutte le settimane la contadina esitò poi rispose certo se volete ma che volete pollastre o galline pollastre quanto ne pagate al mercato la preval non lo sapeva e si voltò verso la sua amica quanto pagate le galline mia cara quelle giovani lei balbettò con gli occhi pieni di lacrime quattro franchi quattro franchi e cinquanta la contadina le guardava di sottecchi stupita poi chiese ci sente male questa signora che sta piangendo la preval non sapeva cosa rispondere e balbettò no no ma ha perduto l'orologio per la strada un bello orologio le dispiace molto anzi se qualcuno dovesse trovarlo avvisateci da benedict non rispose nulla pensando che ci fosse sotto qualcosa di rosco all'improvviso disse ecco mio marito soltanto lei l'aveva visto entrare perché stava di faccia al cancello da preval tra salì la signora decadur per poco non cadde nel voltarsi violentemente sulla sedia sarà un uomo a una decina di passi da loro che stava tirando una vacca legata a una corda piegato in due a un sante senza curarsi dei visitatori disse maledizione che bestiaccia e passò oltre andando verso la stalla dove scomparve le lacrime della vecchia signora si erano asciugate di colpo e rimaneva sconvolta incapace di parlare di pensare suo figlio quello era suo figlio la preval ferito dalla stessa idea chiese con voce turbata e lui benedict la contadina chiese diffidente chi vi ha detto il suo nome il fabbro che sta all'angolo della strada rispose lui poi tutti tacquero con gli occhi fissi sulla porta della stalla era come un buco nero sul muro della costruzione dentro non si vedeva nulla ma si sentivano dei vaghi rumori dei fruscii dei passi smorzati dalla paglia sparsa per terra il contadino ricomparve sulla soglia asciugandosi la fronte e tornò verso la casa a passi lenti e lunghi che lo sollevavano ad ogni movimento passò ancora davanti agli estranei senza mostrare di accorgersi di loro e disse a sua moglie fammi a prendere una brocca di sidro ho sete entrò in casa la contadina andò alla cantina lasciando soli i due parigini fuori di sé la signora decadur balbettò andiamocene harry andiamocene la preval la prese per un braccio la sollevò e sostenendola con tutte le sue forze poiché aveva capito che stava per cadere la trascinò via dopo aver gettato cinque franchi su una delle sedie appena ebbero varcato il cancelletto lei cominciò a sindiozzare scossa dal dolore e balbettando guardate guardate cosa ne avete fatto lui era pallidissimo rispose seccamente ho fatto quel che ho potuto il potere vale 80.000 franchi è un patrimonio che non tutti i figli dei borghesi hanno tornarono indietro piano piano senza aggiungere una parola la donna continuava a piangere le lacrime le uscivano dagli occhi e le colavano sulle guancia senza posa alla fine le lacrime cessarono e rientrarono a fechamp il signor decadur li aspettava per la cena vedendoli si mise a ridere ed esclamò benissimo mia moglie si è buscata un'insolazione ne sono proprio contento davvero credo sia mattita da un po' di tempo i due non risposero nulla e poiché il marito chiedeva fregandosi le mani almeno avete fatto una bella passeggiata da prevar rispose incantevole mio caro proprio incantevole grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti